sentite la registrazione canoli 059 dipendete alla fine tutte le misure no? adesso adesso ciao micchi 60-60 di nuovo poi ti ricordi che c'è un braccio che si vien via? ok vien via il metro ah è vero zio porco ho detto zio aspetta vai a poco della resistenza basta? dischi braccio che viene via braccio che viene via quando ci siete ditemelo faccio partire anche tu Nico ok pronti faccio partire la prima quella del daddy 10 al via 9 8 7 6 5 4 3 2 1 go 5 5 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 10 11 11 11 11 11 12 12 Grazie. Grazie. Arrivo. 48. Anche da Robby. 3. Bravissimo. 2. 1. Tempo. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 8. 8. 1. 2. 5. 5. 6. 6. 8. 9. 10. 5. 4. 5. 6. 5. 7. 8. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Via con il quinto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Via con l'ultimo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Cinque minuti e trentasei. Andiamo con i chest. Adesso. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Bravissimi, raga. Siamo a sei minuti e trentotto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Via con il quarto. Quarto giro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Giro numero cinque. Da fare. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Siamo a otto minuti e otto minuti e dodici. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, bravissimo, due, tre, quattro, dai tienili, bravissimo, cinque, sei, vai col calcio, bravissimo. Pazzesco, Robby, bravo, ottimo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. 9,44 avete chiuso questa prima parte. Vado a chiuso. Abbiamo fatto cinque. Ti guardo a chiuso. 9,44. Abbiamo fatto cinque. Infatti per questo ho detto quanti round sono. Ma tu hai fatto due giri, scusa. Sono io, uno lui e due ieri erano quattro. E uno io. Abbiamo fatto un round di cestetari in più. Che vuoi, a merda. Ma scusa, non sei partito te. Sei partito te, hai fatto i cestetari, hai fatto i cestetari, Robby. E due round io di cestetari. Sono quattro. Erano tre. Ma scusa, non erano quattro, i cestetari. Ne vado i cinque. Ho fatto tre, Nico, due io. Guarda che i cestetari hai fatto uno, Robby. Vabbè, se lo riguardiamo. Ci vuol essere qualcuno che corti. Buonasera, Robby. Sì. Infatti, avevo detto, ho pensato. Lo fai due a te così io arrivo rispondato. Esatto. E' rimascolato. Infatti era così. Era così, so che abbiamo fatto un cestetari. Compagnia. Devo fare rimascolato. Siete a 11.53, ma adesso quanto dovete aspettare? 15. Siete a 11.5€, vediamoci elle. Sì. 3. 4. 5. 5. Grazie. I dischi li mostro alla fine, allora. I dischi li mostro alla fine, non cambio inquadratura. Mancano due minuti. È sicuro che l'inquadratura vada bene frontale, perché è frontale. Girate un po' il bilancio. Sì, di sicuro così va bene. Siamo a 13,5. Siamo a 13,47. Robi da pomettiti se riesci un po' in diagonale, perché se no non ti becco quella cazzo di gamba. Non lo facciamo, guardando dove? Di là? Leggermente di là. Ma dove guardiamo? Dove volete? Basta che vi vedo a tre quarti. 20 secondi. A 14 o a 15? A 15. Come se la molla? Fai il clean dritto, poi ti giri un po' in diagonale, ok? 4, 3, 2, 1, perfetto. Allいき! Sì! Sì! Molto? 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 Perfetto! Siamo a 16 minuti! Dai Roby bravissimo sì Nico viene un po' avanti sempre come Daddy un po' in diagonale bravissimo lì perfetto 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 ottimo pazzesco è da 17 minuti ottimo siamo a 17 minuti e 20 così sì Robby andiamo Robby andiamo ottimo bravo su 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 dai 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 Ale bravo quanto? sei 18 e 49 dai Nico andiamo Nico dai Nico sì bravo sì dai dai ce l'abbiamo il terzo dai Nico sei duro 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 durissimo bravo pazzesco zio porco posso avvicinarmi questo è per pisco sas quando avete fatto quando avete fatto sopra io ho due 11 due non so molto meno era 1,48 mi sembra 1,45 non mi ricordo mi spiace a posto raga scusate io non ho contato bene i giri mi sono persa anche perché non mi ricordavo quanti giri doveste fare allora aspetta questo cazzo di cazzo di aspetta posso accorciare questo vai tira fuori non mi ricordo tira fuori che c'è un uno dentro un bel verde dentro ma io canta